Assessore parliamo di turismo, quest'anno com'è andata dato il maltempo e un po' la crisi che c'è? Beh, quest'anno possiamo dire che qualche piccolo miglioramento c'è stato, certamente la situazione nazionale ha contribuito anche quella a crearci qualche piccolo problema, però noi siamo fiduciosi, la nostra città è frizzante, i dati ci danno ragione che siamo in lieve aumento, quindi una delle poche città termali che segna un più e quindi per noi è un momento di orgoglio, un momento di tenere duro, di continuare a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora e credo che sicuramente i risultati arriveranno. Per quanto concerne poi questo periodo che per il nostro Veneto è stato veramente disastroso, diciamo che noi abbiamo avuto una piccola inversione di tendenza, cioè al miglioramento, perché i turisti invece di pensare al mare o alla montagna hanno pensato alle terme, quindi sotto questo punto di vista siamo stati anche un po' affortunati in quello che è successo. Ecco quindi noi andiamo avanti, crediamo che possiamo fare ancora meglio, le nostre terme sono le più importanti d'Europa e quindi perché non crederci che qua c'è l'acqua vera, il fango vero e quindi andiamo avanti così e vedremo fra qualche anno i risultati futuri. Cosa si fa per incentivare il turismo qui ad Abano? Beh, per incentivare il turismo noi abbiamo cominciato dal territorio perché sappiamo quando un turista arriva prima come noi a casa nostra, prima pensiamo alla nostra casa e poi pensiamo a quello che c'è attorno. Noi abbiamo cominciato a dare un po' di risalto al nostro territorio con manifestazioni, cercando di sistemare quello che può essere la red urbano e adesso stiamo facendo anche dei progetti, dei progetti insieme al Consorzio Termi Ugani e insieme all'Associazione Albergatori, stiamo facendo dei progetti diciamo quasi mondiali, cioè un progetto con la Cina, stiamo spingendo ancora sul mercato russo e stiamo guardando anche il mercato indiano e anche il mercato americano, quindi di lavoro ne abbiamo tanto da fare ma siamo convinti che ce ne sia tanto.